Sicuramente uno dei punti che è venuto fuori e su cui io rimarco sempre una sottolineatura è la necessità di dedicare tempo all'informazione, perché il pericolo più grosso è la superficialità nell'informarsi. Ci sono mille modi per informarsi, chiaramente i giornali fanno un'informazione, parlo di giornali di carta, ma non solo, anche alcune testate online fanno approfondimento, approfondire, dare più qualità, più conoscenza, più possibilità a chi legge di comprendere quello che succede rispetto a una notizia che magari si è letta su una testata online in maniera più rapida, bene, questo è un modo di informarsi che richiede un po' più di fatica, ma allo stesso tempo ci fa essere più a conoscenza delle situazioni reali. Sono gli strumenti che hanno cambiato il modo dei ragazzi di approcciarsi alle notizie o sono proprio i ragazzi che sono diversi rispetto ai giovani di un tempo? Beh, chiaramente l'offerta, il bouquet delle fonti di approccio all'informazione sono tagli e tante e variegate che è evidente che è cambiato il modo di avvicinarsi all'informazione, ma come dicevo sono cambiati anche i tempi, quando intendo i tempi intendo il tempo che si dedica all'informazione, quindi il tempo lo si può dedicare anche se ci si informa online, non è che l'informazione online o vedere un canale YouTube, quindi avanzando velocemente o fermandosi e poi riprendendo dopo quello che si sente trasmesso da chi ci sta informando, sia un modo assolutamente non idoneo per informarsi, è un modo a cui si deve dedicare l'attenzione giusta per capire cosa sta succedendo e possibilmente diciamo andare un po' più a fondo, cioè far capire ai giovani che esiste un modo di informarsi che è più in profondità. Formarsi un'opinione è importante, formarsela in maniera consapevole e lo è sicuramente di più.